Un'università che mette al centro la persona, lo studente, i giovani, questo è quello che è emerso un po' dalla discussione di oggi in sinergia con la Pontificia Università Lateranense. Sì, oggi è un momento felice perché quando si sottoscrive un accordo c'è sicuramente la volontà di stare insieme e quando lo facemmo tre anni fa questa era l'idea, c'erano già delle presenze istituzionali reciproche tra le due università, però l'idea era quella di istituzionalizzare il rapporto. Oggi invece c'è il momento del rinnovo e quindi il momento più piacevole perché ovviamente si dà atto rispetto alle cose che sono state già fatte in questi tre anni e per questo con una diversa consapevolezza e maturità c'è la voglia di continuare a stare insieme. L'idea è quella di valorizzare i progetti comuni che pongono al centro la persona, i giovani e immaginando anche con progetti di ricerca e di didattica di qualità e immaginando anche dell'apertura al territorio perché nell'accordo c'è anche la possibilità di poter immaginare che qualche attività sia svolta fuori dalle due sedi universitarie ma coinvolge il territorio con istituzioni importanti quali possono essere appunto l'abbazia Benedettina di Cava perché ovviamente risorse e territori esistono e possono e debbono essere valorizzate. L'idea poi forte di questo tema oggi era quella dell'università, del presente e del futuro della nostra università, di idea di università e devo dire che spesso per il messaggio che io ho cercato di mandare è quello di dire ai giovani di non farsi rubare il proprio futuro perché i media mandano spesso un messaggio deviato che fare un percorso universitario non serve, non è così, lo dimostrano le statistiche che dicono che un laureato guadagna di più di un diplomato e si inserisce più facilmente nel mercato del lavoro. Ed inoltre loro lo fanno spesso strumentalmente perché la politica si è servito dei media per abbattere la credibilità dell'università e poi adoprare quei tagli che ci sono stati sul sistema finanziario universitario dal 2007 ad oggi perché ovviamente noi abbiamo reagito alla crisi tagliando i fondi per la ricerca e per l'università. Invece il messaggio deve essere completamente diverso, l'unico ascensore sociale che esiste per immaginare un domani diverso dall'oggi per i nostri giovani è un percorso universitario di qualità come quello della nostra università e lo dimostra anche il fatto che nel nostro Ateneo, e io ne sono molto orgoglioso, i due terzi dei nostri laureati sono laureati di prima generazione, cioè persone cui i genitori non erano laureati. Quindi noi svolgiamo anche una funzione sociale di cui siamo contentissimi anche per la collocazione geografica e facendo del merito e della qualità la nostra bandiera svolgiamo un servizio buono per la crescita della nostra università e per la crescita del nostro territorio e per il presente e il futuro dei nostri giovani. Oggi all'Università degli Studi di Salerno si discute con Alexio Magistralis sul tema l'università crisi e futuro di un'idea. Sua eccellenza può brevemente illustrarci un po' i dettagli dell'Alexio e della convenzione che sarà oggi stipulata tra l'Università e l'Università Pontificia Lateranense. Benissimo, allora cominciamo dai termini della convenzione. Si tratta di riprendere gli elementi stessi dell'accordo quadro che già avevamo firmato nel 2014. In sostanza si prevede una facilitazione nello scambio di docenti delle due università, di studenti delle due università e anche l'organizzazione di eventi, anche master e simili, insieme. Abbiamo scelto anche come luogo di riferimento, oltre che l'università, un luogo storico qui vicino che è l'Abbazia di Cava dei Tirreni per Summer School e altre cose del genere. L'accordo poi si può ampliare ulteriormente nell'intento di favorire una sinergia tra istituzioni accademiche differenti all'insegna dell'interdisciplinarità e della transdisciplinarità, oggi essenziali per recuperare un'idea autentica di università. E qui passo al secondo punto che mi è stato chiesto, cioè parlerò proprio di questo. L'università, questo è un luogo comune, oggi è in crisi. È in crisi perché ne è venuta meno l'idea originaria, che era legata alla sintesi dei saperi, Universitas Studiorum. Quando nacque l'università, all'inizio del secondo millennio, 1088, a Bologna, c'era una sintesi, vorrei dire, quasi naturalmente perseguita all'insegna della filosofia, della teologia, delle discipline umanistiche. Ora, invece, ciò che conta di più per l'università sono le discipline che preparano la professione in un sistema tecnocratico implacabile. C'è una frammentarietà sempre più disperata nella ricerca dei saperi. Tutto questo pone in crisi l'idea originaria di università. Ma allora, ci chiediamo, non c'è più futuro per l'università? Ecco, quello che mi sforzerò di dire nella relazione è che ci sono delle possibilità di recupero di una idea autentica di università, ma purché si rispetti proprio questa centralità della persona, la necessità di una formazione globale della persona e di coltivare relazioni tra docenti e dicenti che sono imprescindibili. Con il professore Lamberti, oggi all'Università degli Studi di Salerno, un Alexio Magistralis dal tema L'Università, crisi e futuro di un'idea. Professore, come nasce l'iniziativa di oggi? Quest'iniziativa parte da lontano, perché il rapporto con la Pontificia Università Lateranense nasce già diversi anni fa, soprattutto poi con il magnifico rettore su Eccellenza d'Alcovolo, attraverso una serie di conveni, di seminari che nel corso del tempo ho promosso e ai quali ha partecipato anche su Eccellenza d'Alcovolo. Poi, ovviamente, la sensibilità e la disponibilità del nostro magnifico rettore Aurelio Tommasetti ha consentito poi di arrivare a formalizzare questo accordo quadro, che è estremamente importante perché, tengo a sottolineare, la Pontificia Università Lateranense è un'università presente in 50 paesi e ha studenti che provengono da 100 nazioni. Quindi, nel processo anche di internazionalizzazione che il nostro Ateneo persegue, è molto importante privilegiare anche questo rapporto con università che sono, tra l'altro, considerate di eccellenza. Noi riteniamo che il rapporto di collaborazione potrà essere estremamente profiguo non solo per lo scambio dei docenti, dei ricercatori, per le opportunità anche per i nostri dottorandi e anche, ovviamente, per i dottorandi della Pontificia Università Lateranense, ma anche e soprattutto per la possibilità di organizzare dei corsi di laurea o comunque dei master anche in istituzioni che sono particolarmente significative del nostro territorio. Nella Convenzione è prevista anche una particolare attenzione per l'Abbazia Benedettina della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. Io vorrei però sottolineare l'importanza del tema che oggi viene affrontato. L'Università ha crisi e futuro di un'idea. Siamo in un momento nel quale l'Università pubblica attraversa un momento particolarmente complesso. Ecco, insomma, è possibile fare una lettura un po' a macchia di leopardo nel senso che sul territorio nazionale ci sono realtà che sono in forte crescita ma ci sono anche realtà che invece presentano tutta una serie di difficoltà. Allora, avviare una grande riflessione un grande dibattito nazionale sul ruolo dell'Università e cioè l'Università è soltanto il luogo dove si opera la trasmissione dei saperi al fine dell'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani o è innanzitutto il luogo della formazione delle persone e poi ovviamente unitamente anche alla trasmissione dei saperi. Noi riteniamo che bisogna privilegiare questa seconda visione dell'Università. Questo significa ovviamente prestare anche una particolare attenzione al processo di formazione della classe dirigente ma prestando attenzione soprattutto, ripeto alla centralità della persona umana. Io penso che il ruolo anche delle università soprattutto nel nostro contesto sia anche quello di aiutare particolarmente le comunità territoriali ad un processo di crescita che è innanzitutto di carattere complessivo e poi anche di sviluppo economico e di valorizzazione certamente delle tradizioni che caratterizzano i nostri luoghi. Io insomma nel dire che bisogna privilegiare il rapporto Università-Territorio penso per esempio anche a realtà molto importanti che sul piano internazionale nel corso del tempo hanno visto diciamo svolgere un ruolo particolarmente importante penso per esempio al rapporto con il territorio che l'Università di Oxford ha avuto così come anche quella di Grenoble così come anche quella di Pisa cioè una capacità di riuscire anche ad incidere sul processo di crescita complessiva dei territori in cui queste università hanno operato ed operano meritando tra l'altro anche di essere considerate delle eccellenze su un piano internazionale.